Siamo arrivati a Sardegna Grazie a tutti Pronto? Sì Pronto, se non puoi Lo rivolto anche con l'altro Per quello che diciamo, mettiamo piantane lì. Cosa fai adesso? Aspetta, aspetta, cosa fai? Quindi questo. Bravo! Vento, bravo! Vento sotto, di sicurezza. Vento sotto. Vento sotto, vieni, vai, vai. Fermo, fermo. Adesso, adesso, Michele, abbassa. Qua, vento. Adesso, che va. Vedi a me. Bravo! Vento. Alza un po'. No, aspetta un attimo, bravo. Alza un po' adesso. Aspetta, aspetta. Alza un po'. Alza un po'. Fermo. Vento. Mi chiamo addosso, qui la passa la merda. Ok. Ok. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vento che si spaccheranno. Eh, va bene, fai, si si rompono. Vai. Ok, tira la dosso adesso. Tira la dosso. Ok, 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 tira la dosso. Grazie a tutti.